Dov'è la vostra vera famiglia? I miei genitori e le mie sorelle sono stati uccisi. Cinga Ciccù mi trovo con due cacciatori francesi, è lui che mi ha allevato. Mi dispiace. Non me li ricordo, avevo uno o due anni. Come avete imparato la mia lingua? Mio padre mandò me in Uncas a scuola, dal reverendo Willock, avevamo dieci anni. Perché quella gente viveva in un posto come questo, senza protezione? Dopo sette anni in Virginia a contratto, si erano trasferiti qui perché alla frontiera c'è la terra disponibile per la povera gente. Quel giorno non bisogna sottostare nessuno, non servono contratti per vivere. Si chiamavano Cameron, John e Alexandra Cameron. La gente di mio padre racconta che alla nascita del sole e di sua sorella la luna la loro madre morì. e allora il sole donò il suo corpo alla terra e dalla terra stessa cominciò a scaturire tutta la vita. Poi dal petto, presa le stelle e la lanciò nel cielo notturno per ricordarsi della sua anima. Ecco la tomba dei Cameron. E' quella della mia famiglia. Voi avete ragione. Noi non capiamo cosa sta avvenendo qua. Non era come lo immaginavo quando ci pensavo a Boston o a Londra. Mi dispiace deludervi. No, al contrario. E' entrato nel sangue così in profondità. Oltre ogni possibile immaginazione.